intervento saliamo pietro che è stato avvelenato dal vino avete visto nel episodio precedente va portato dal dottore che è vicino al colosseo non bisogna nuotare ok non c'è acqua al colosseo almeno è da tipo il settata dopo cristo che non c'è acqua al colosseo siamo qui per aiutarvi grazie è pietro è tipo ansimante in questo momento voi chi siete il vostro salvatore dottore qui ma va bene lo deposito intanto che abbiamo anche il terzo pacco di adepti pietro sta morendo ci siamo ok perfetto grazie adepti l'hanno avvelenato volevo fare la pioggia di frecce però così forse era meglio bevete questo presto dategli un momento a vedere la cazzina che si cambia le sanguisughe vi guariranno del tutto non potrò mai ringraziare ecco le sanguisughe sanguisughe fresche a chi serve un salasso era per quello sono solo un povero attore Cesare sa tutto di Lucrezia e voi tenete va 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 presto è il ladro di Monteriggioni non ancora dove porta questo passaggio a nord fuori dalle mura lasciate che vada aiuto le truppe un momento tu eri a Villa Auditore durante l'attacco prendetelo ecco perché non nuotare e sicuramente ci farà notare in un modo o nell'altro poi posso usare il cavallo? certo che lo posso usare ma com'è possibile che vada più lento del cavallo? non te ne andrai così preso e si è suicidato avevo ragione devo impedire alla Volpe di uccidere Machiavelli che rigirio di cose aggiungi la Volpe dov'è questa Volpe intanto? vabbè non è lontanissimo però bisogna del cavallo per forza oh ma perché ma perché ste cagate fa sto gioco un po' come si fa a non nuotare? il ponte 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 ho tempo ho tempo è l'isola Tiberina a piedi non ce l'avrei mai fatta ho scoperto chi è il traditore cosa? in tempo proprio era alla villa durante l'attacco aveva con sé questa lettera mio dio buone nuove? più di quanto tu non creda ti sono di nuovo debitore Ezio quale debito può esserci tra amici che si fidano l'uno dell'altro? giusto grazie di avermi portato il messaggio in tempo vieni Niccolò è tanto so che alla rappresentazione al Colosseo c'è stato un fuori programma davvero? pare che Gesù Cristo sia risuscitato con intervento finisce qui non abbiamo nuotato e siamo a posto